Sì, è doveroso in questo momento, diciamo tra virgolette, un po' di crisi, di fare un augurio a tutti quanti noi, soprattutto a questa città dell'agro, dove ci sono tante risorse, ci sono tante opportunità, che noi dobbiamo avere semplicemente, come dire, la capacità di poterle cogliere e quindi poterle attivare. Credo che oggi ci troviamo sicuramente in un momento che impone soprattutto più rigore, ma tanta riflessione e tanta responsabilità rispetto a tutte le attività che dobbiamo mettere in essere. Io credo che ce la possiamo fare perché ci sono le condizioni. Si sta lavorando bene, si sta lavorando soprattutto nell'intesa comune per il bene comune e credo che questo sia l'elemento fondamentale per dare risposte concrete e anche immediate. Attraverso questo ragionamento di sintesi noi potremmo sicuramente richiavare quelle positività giuste e necessarie per un agro che lo è stato e secondo il mio modesto parere lo è e lo potrà essere sicuramente anche, come dire, in un ragionamento un pochettino più ampio. Noi dobbiamo guardare con grande interesse la comunità europea, ne facciamo parte e credo che attraverso questo rapporto più diretto possiamo trovare anche le giuste risorse, non solo economiche ma anche risorse umane, attraverso le quali possiamo attivare tutti quei procedimenti che danno sicuramente ricchezza a questo territorio. Buon anno ce lo dobbiamo fare, tutti quanti noi, uomini di grande speranza, di fede innanzitutto, ma soprattutto uomini di grande responsabilità. Credo che ognuno di noi, nel grande e nel piccolo, ce la debba mettere e deve avere la forza e il coraggio di reagire. Oggi è il momento della reazione. Oggi è il momento della reazione.